Donne e uomini in festa per questo evento unico, la visita del successore di Pietro. Nel lungo giro fatto in Papamobile, prima di celebrare la messa nella piazza del Cristo Redentore a Santa Cruz, Papa Francesco ha visto madri e padri con i propri figli sulle spalle, boliviani che portano il futuro della loro gente, ma anche disillusioni, tristezze e le cicatrici di una giustizia che non si realizza. Il pontefice, dal suggestivo palco che rimarrà come installazione permanente a memoria della visita, ha riconosciuto che non sono poche le situazioni che pretendono di anestetizzarci la memoria, indebolendo la nostra speranza e contagiandoci con una tristezza che diventa individualista, ma che ognuno di noi è amato. Nel corso della celebrazione, che ha aperto anche il V Congresso Eucaristico Nazionale, Papa Bergoglio ha ricordato che il figlio di Dio non può accettare una logica che taglia il filo a chi è più debole, a chi non produce una visione per cui tutto e tutti diventano oggetto di scambio, perché l'autentica ricchezza di una società si misura nella vita della sua gente. Consegnando le croci missionarie, a tutti è stato affidato il compito di promuovere invece una logica dell'accogliere, benedire e offrire, la logica dell'amore.